Vittorio Alferi, perché la Villa Bagnoli di Capodorlando non è sufficientemente valorizzata? Allora, sarebbe facile dire le risposte già dette e sentite, la mancanza dall'alto, in questo caso mi sento di dire che la colpa è un po' di tutti noi, perché se il cittadino comune, è un minimo comune denominatore dei nostri paesi che è l'affetto, la passione che ci mette chi è forestiero, in questo caso abbiamo la testimonianza diretta di chi non è di questo territorio, che si chiede, si fa domande, vuole conoscere, vuole visitare, vuole imparare, invece per chi queste evidenze archeologiche in questo caso ce le ha sotto il naso e sotto i piedi da sempre, forse anzi è un fastidio se si crea movimento, se espropriano un terreno perché si trova qualcosa o se è un reperto che abbiamo custodito a casa perché di nostro padre o di nostro nonno lo dobbiamo per imposizione consegnare, quindi il nebroideo, nebroidenze medio, chiamiamolo come vogliamo, da questo punto di vista non sente l'identità culturale, ecco visto che l'assessorato nostro di riferimento è denominato dei beni culturali e dell'identità siciliana in quel caso, noi non sentiamo una identità comune e nostra, noi queste cose le sentiamo lontane, non solo nel tempo ma proprio nel nostro DNA, come se non fossero nostre, invece quella scansione cronologica di civiltà che noi siamo soliti fare, sicoli, greci, romani, bizantini, arabi e normanni, siamo noi che la facciamo a posteriori, chi viveva in questo territorio era orlandino, diremmo oggi, era mistrettese, era stefanese a tutti gli effetti, quindi noi oggi abbiamo perso questa cosa ed è un peccato, faccio una piccola provocazione, prima avete citato il movimento dei forconi, ci vorrebbe un movimento dei picconi, perché non ci riappropriamo del nostro passato, della nostra archeologia che è la portata di mano, facciamo aprire i siti chiusi lì, a proposito di volontariato, però un volontariato strutturato, tenere aperti i siti, le chiese, i musei, laddove il personale non lo ritiene o non è in grado di farlo, perché non facciamo entrare, come avete accennato voi, il privato nella gestione dei beni culturali, sicuramente in molti siti peggio non può andare, ci sarebbe solo da guadagnare.